Urne aperte domani dalle 7 alle 23 per scegliere 7 sindaci in Sicilia. Nell'isola i riflettori sono puntati soprattutto sulla città di Trapani, unico capoluogo di provincia dove c'è in corsa solo il candidato del PD, Piero Savona. Una corsa anomala dopo la rinuncia di Girolamo Fazio, coinvolto nell'inchiesta Mare Monstrum. Gli altri comuni interessati ai ballottaggi sono Termini Merese, Sciacca, Niscemi, Floridia, Palagonia e Scordia. Il comune più grosso chiamato al voto è Termini Merese, dove gli aspiranti sindaci sono Vincenzo Fasone e Francesco Giunta. A Floridia lo scontro sarà invece tra Orazio Scalorino e Gianni Limoli. In provincia di Agrigento si vota Sciacca, in corsa Calogero Bono e Francesca Valenti. Due i comuni della provincia di Catania che andranno alle urne. A Palagonia vanno al ballottaggio Salvatore Astuti e Salvatore Valerio Maletta, mentre a Scordia il confronto sarà tra Maria Contarino e Francesco Barchitta. Infine a Niscemi, nel Nisseno, la sfida sarà tra Massimiliano Conti e il sindaco uscente Francesco Larosa. Per votare è necessario presentare la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Chi avesse smarrito la scheda la potrà richiedere anche domani stesso nell'ufficio comunale competente. Come sempre può votare anche chi non lo ha fatto al primo turno. Si vota tracciando un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco a cui si vuole dare il proprio voto o sul simbolo della lista a lui collegata. Il ballottaggio sarà vinto dal candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, anche un solo voto in più rispetto all'avversario e nell'improbabile caso di parità verrà eletto il candidato più anziano.